Il presidente della regione toscana Enrico Rossi è candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico oggi in Abruzzo per presentare il suo programma. Tutto cambia, come dice una canzone, io credo che il problema sia di impegnarci per riportare il Partito Democratico ad avere un profilo più netto, più radicale, di sinistra, propongo che si costituisca un'area socialista dentro il Partito Democratico, che dia battaglia al Congresso, che avanzi le proprie idee, le proprie proposte, anche programmatiche, quindi niente fermo niente statico. Renzi ha rappresentato un elemento di rottura importante, per tanti aspetti anche positivo, è impegnato in un'azione di governo che ha dato anche qui segnali interessanti, secondo me però dovremmo fare di più, non fermarci ad un riformismo debole e ad una rottamazione che arretra un po' troppo di fronte alle rigarchie del potere, questo mi pare il punto fondamentale. Le ultime elezioni stanno a dimostrare che puntare verso il centro-destra non serve, perché rischiamo di perdere laddove un partito di sinistra deve avere il suo radicamento, tra i cittadini popolari, nella classe media, tra i lavoratori, tra le pensioni basse, l'IVA a reddito basso, le persone marginate, prima di tutto i giovani disoccupati, questo deve essere il nostro punto sociale di riferimento e a questo mondo noi bisogna parlare con politiche più robuste e anche con azioni simboliche più robuste, la nostra gente stufa di tante ingiustizie, di tanti privilegi, dovremmo su questo essere in grado di dare qualche segnale in più. Nel PD si propone a questo punto uno scontro tutto toscano fra lei e Renzi? Non è colpa mia se si propone questo scontro, altre volte gli scontri sono stati i romani, qualche altra volta i piemontesi, altre volte sono stati tra città italiane e regioni, sì questa volta sarà così ma penso che non saremo solo in due a candidarsi. E a fronte della comunicazione di Samane da parte dell'ACA circa il mancato funzionamento di una pompa di sollevamento dell'impianto IS5 alle 5 di stamattina, il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha firmato l'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione di 48 ore, una prassi che scatta da parte dell'ente in casi come questo, anche se va chiarito che con i vertici ACA fanno sapere dal comune la situazione per cui il mancato funzionamento di una pompa abbia causato effetti sull'intero sistema. La criticità comunicata ci alle ore 9 di Samane pone interrogativi sull'organizzazione e funzionalità dell'intero sistema di gestione delle acque reflui, aggiunge il sindaco Marco Alessandrini. Nel caso di specie il mancato funzionamento di una delle elettropompe di sollevamento di un impianto così rilevante come gli S5, dove si è verificato il guasto ha mandato in tilt l'intero sistema che pure è dotato di più elettropompe determinando lo sversamento di reflui per circa 20 minuti. Questa è una situazione che va chiarita e sarà affrontata al più presto con i vertici dell'ACA, conclude Alessandrini, ribadendo che l'efficienza di un'azienda, specie se pubblica, non si misura solo in termini di risparmi di bilancio, ma va calibrata anche su come tali risparmi vengono impiegati per garantire la funzionalità piena e costante di impianti così determinanti per la città e il suo ecosistema. E sulla cannabis terapeutica in Abruzzo scende in campo Maurizio Acerbo, che prendendo spunto dalla vicenda della giovane Fabrizio Pellegrini chiede una legge regionale. Ascoltiamo. Maurizio Acerbo, oggi si parla ancora di questa vicenda del giovane Pellegrini, una vicenda legata anche alla legge sulla cannabis, una battaglia che voi state portando avanti da diverso tempo. Sì, noi abbiamo ottenuto nel gennaio 2014 l'approvazione in Abruzzo della legge più avanzata sulla cannabis terapeutica. Questa legge è stata copiata da altre regioni dove si applica, per cui Pellegrini in Abruzzo finisce in galera, mentre in altre regioni, come la Toscana, avrebbe potuto semplicemente presentare la richiesta di ricevere il farmaco presso l'Asl e l'avrebbe ricevuto gratuitamente. L'Abruzzo invece è completamente inadempiente per il disinteresse del Presidente D'Alfonso e dell'assessore della sanità Paolucci, per cui accade che le regioni che ci hanno copiato garantiscono ai pazienti l'erogazione dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi, mentre in Abruzzo questo ancora non c'è. A me pare una cosa gravissima, in quanto il caso Pellegrini è soltanto la punta dell'iceberg. Ci sono tantissime persone che potrebbero avvalersi di queste cure, molto meno invasive di altri tipi di trattamenti, anche meno costose per la nostra sanità pubblica, eppure questa indolenza, negligenza, questo disinteresse per la salute dei cittadini ha fatto sì che ci sia questa situazione paradossale che noi abbiamo. La legge è più avanzata ma è chiusa in un cassetto. Io consiglierei semplicemente di telefonare ai colleghi toscani e farsi spiegare come hanno fatto. Inoltre voglio ricordare che sulla base della mia legge, che è stata la prima a proporre la autoproduzione e la coltivazione promossa dalla stessa regione, in breve tempo la regione Abruzzo potrebbe diventare con aziende locali produttrice della cannabis e dei relativi farmaci. Abbiamo anche industrie farmaceutiche in Abruzzo con cui fare convenzioni e quindi il costo per il servizio sanitario diventerebbe irrisorio in sostituzione invece a farmaci che costano tantissimi soldi al nostro servizio sanitario. Invito d'Alfonso a occuparsi meno delle gallerie e dei progetti di Toto e un po' più della salute degli abruzzesi. Parliamo ora di trasporti. Dopo il sì al taglio dell'aumento delle tasse aeroportuali, ufficializzato mercoledì, arriva il rilancio di Ryanair. Sull'aeroporto d'Abruzzo pronte 7 nuove rotte. Alfredo Primante. Sette nuove destinazioni da e per l'aeroporto d'Abruzzo e quanto propone Ryanair dopo aver incassato il sì al taglio dell'aumento delle tasse aeroportuali da parte del governo Renzi. Aumento che aveva determinato ad ottobre dello scorso anno la decisione di voler abbandonare lo scalo regionale abruzzese. Dublino, East Midlands, Valencia, Marsiglia, Vilnius, Varsavia e Cracovia. Queste le rotte che si andrebbero ad aggiungere alle attuali Milano, Francoforte, Londra, Bruxelles, Barcellona e Dusseldorf solo per l'estate, poi Bucarest, Torino, Tirana e Spalato. Dalla rosa di nuovi voli presentata da Ryanair, regione Abruzzo e Saga dovranno selezionare quelle di maggior interesse per il movimento turistico. Probabilmente il discorso più interessante riguarda l'est Europa. L'aeroporto di Pescara potrebbe porsi finalmente come vera porta verso l'oriente del vecchio continente, cioè verso la capitale polacca, Varsavia e verso Cracovia, centro importante, anche perché custodisce la tela di Leonardo da Vinci, la dama con l'ermellino. E poi c'è la capitale della lituana, Vilnius, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Ma potrebbe essere importante potenziare anche il collegamento con l'Oltremanica post-Brexit, East Midlands e l'aeroporto inglese che serve le città di Leicester, Derby e Nottingham ed è situato a 60 km da Birmingham, seconda città della Gran Bretagna. E in questo senso Ryanair spinge anche per il collegamento con l'aeroporto di casa, Dublino. Infine le ultime opzioni più mediterranee, il ponte con la Spagna e con la Francia, potrebbe essere potenziato se si scegliessero Valencia e Marsiglia, quest'ultima già capitale della cultura nel 2013. Da oggi dunque si apre la trattativa con la Regione, che ha messo sul piatto anche un bando da 2,5 milioni di euro per la selezione delle compagnie aeree nazionali ed estere, per la realizzazione di un progetto teso a valorizzare turisticamente l'aeroporto d'Abruzzo. Infine, nella trattativa la saga potrebbe cercare di inserire alcune destinazioni che ad oggi non sono presenti. Monaco e Berlino in Germania, la Sicilia con Catania, ma soprattutto Roma-Fiumicino diventata centrale per mantenere il collegamento con l'Hub nazionale dopo lo stop al volo di Alitalia e Tihad. Tutta la partita ora si giocherà sulla concessione delle provvidenze concesse dalla recente normativa europea in merito agli aiuti di Stato. Cambiamo argomento. I consiglieri regionali, riferendo delle bacchettate dalla UE al piano di sviluppo rurale della Regione, criticano l'operato dell'assessorato parlando di anomalie e ritardi. Febo, criticate l'operato dell'Aggiunta, dell'assessorato alle politiche agricole per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale. Ci sono state queste bacchettate, così le avete definite, dell'Unione Europea. Parlate di anomalie e ritardi in particolare. Ma veramente, se è solo a criticare l'opposizione, sai, ci potrebbe essere un ragionamento. Ma qui mi sembra che più che bacchettate è una bocciatura su tutti i fronti del PSR da parte di Bruxelles, che ha esaminato le richieste di modifiche, addirittura un'Aggiunta regionale che si accorge dopo un anno dall'approvazione che necessitano fare delle modifiche, addirittura le stesse modifiche vengono bocciate. Credo che ci sia qualche problema all'interno della direzione dell'assessorato. Credo che i 432 milioni di euro messi a disposizione dell'Europa, a cui vanno aggiunta la quota privata, quindi superiamo 750 milioni di euro, che fanno comoda l'economia regionale, non solo al sistema rurale, ma soprattutto al PIL abruzzese, al 99% oggi sono ferme perché non si riesce a fare un bando a cui si possa rispondere. Basta pensare che quello del primo insediamento sono quattro volte che viene prorogato. Noi finanziamo 1.250 nuovi imprenditori agricoli, qui siamo a circa 90 pratiche presentate, vedremo quante confermeranno poi alla fine la richiesta, perché è cambiato il metodo. C'è un bando aperto quello che riguarda i leader, cioè le aree interne, le aree svantaggiate. Bruxelles dice che non va bene la modifica che è stata richiesta. A che fine fa il bando che è stato pubblicato appena qualche giorno fa, cioè il 3 agosto. Veramente qui siamo a qualcosa da definire principiante, qualcosa di ridicolo, perché non si capisce perché bisogna spendere 14 milioni e 800 mila euro per andare alle consulenze esterne all'ente quando ci sono risorse professionali all'interno della stessa direzione che hanno sempre portato risultati importanti per il sistema rurale. Ecco quello che oggi noi denunciamo e chiediamo di intervenire perché ci dispiace vedere un settore, quello primario, quello dell'agricoltura, che è uno dei pochi che sta tirando il PIL regionale, che viene così abbandonato e lasciato senza risorse. Ripeto, ma soprattutto è l'economia regionale che ne andrà a risentire. E ha chiuso ieri i battenti la due giorni della tradizionale rassegna ovini nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga che per la 57esima edizione si è svolta nella consueta location di Campo Imperatore. Vestina News. Siamo alla 57esima rassegna ovini di Campo Imperatore e credo che questa iniziativa che si ripete da così lungo tempo possa e debba rappresentare non solo per il territorio ma soprattutto per coloro che vivono di questa attività e che con grande sacrificio continuano a tenerla viva questa iniziativa. Come vedete oggi c'è un gran numero di persone quindi è un'attrazione per il territorio, è la conoscenza delle nostre tipicità, è la conoscenza dei nostri valori, della nostra storia e che sulle nostre tavole arrivano prodotti sani che sono i migliori d'Europa e i migliori del mondo. Rendere protagonisti i pastori, le pecore, il nostro passato, un patrimonio che può essere rivalutato e può essere soprattutto sostenuto anche attraverso le politiche agricole che la Regione Abruzzo sta mettendo in campo. In particolar modo i bandi del piano di sviluppo rurale. Abbiamo appena pubblicato il bando sulle indennità compensative, sui prati pastori, sul biologico, sul primo insediamento giovane, risorse importanti che possono sostenere con forza soprattutto l'attività agricola di montagna. Voglio ringraziare le organizzazioni professionali agricole, sempre attente al settore, sempre attente a sostenere i giovani, l'agricoltura e tutta l'economia agricola regionale. È un momento molto significativo per i nostri produttori e per la nostra esperienza, per la storia di questa terra che è terra di transumanza. Però non è una manifestazione nostalgica, è un evento che grazie anche al contributo delle associazioni, della Camera di Commercio e della Regione e di tutti i soggetti coinvolti, riesce a proiettare verso il futuro questa nostra straordinaria tradizione. Il Comitato Spontaneo Villa Elce ha raccolto in poco tempo 700 firme per dire no all'arrivo di migranti nella omonima frazione di Lanciano. Il servizio. In pochi giorni sono state raccolte a Lanciano 700 firme contro il previsto arrivo di migranti in località Villa Elce. Il Comitato Spontaneo Villa Elce Unita ha spiegato i motivi della protesta in conferenza stampa. Non siamo contro i profughi, dice la portavoce Fiorina Fedele, perché si tratta di persone che fuggono dalla povertà e cercano condizioni migliori di vita, ma chiediamo precise garanzie di sicurezza per loro e per noi residenti. I membri del Comitato si preoccupano anche per gli aspetti igienico-sanitari, considerato che in Italia, hanno detto, sono in aumento le malattie già debellate come la tubercolosi. Al prefetto di Chieti, residenti di Villa Elce, chiedono di garantire la sicurezza personale per se stessi e per i profughi. Quali sono le condizioni che permettono l'agibilità di una struttura del genere? Quali saranno le nostre garanzie igienico-sanitarie, visto che comunque stanno tornando in aumento tante malattie? Quali sono le nostre sicurezze soprattutto? Come verrà garantita anche la tutela della nostra sicurezza? Quanto alla struttura in allestimento, l'amministrazione comunale ha tentato per due volte di accedervi per controlli e verifiche, ma è stato negato l'accesso. Altri controlli sono stati già eseguiti nei giorni scorsi dal personale dei vigili del fuoco, della ASL e funzionari prefettizi. È un uomo ricercato a Civitavecchia per una condanna di furto aggravato e è stato arrestato ad Avezzano. Il foglio di via obbligatorio è stato dato a un suo amico, Germana Dorazio. Gli agenti della squadra anticrimine e della squadra volante del commissariato di Avezzano hanno rintracciato due persone di nazionalità italiane provenienti da Civitavecchia che si trovavano da qualche giorno nel centro cittadino. Dai controlli effettuati è il risultato che a carico di uno di loro, un uomo di 57 anni, c'era un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Civitavecchia per una pena residua di 5 mesi e 18 giorni per aver commesso il reato di furto aggravato in concorso. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere ad Avezzano a disposizione dell'autorità giudiziaria. A carico del secondo sono emersi poi due provvedimenti di rintraccio per notifica di ordini di carcerazione con sospensione della pena emessi dalle procure di Civitavecchia e Piacenza per altri reati. A carico dell'uomo sono risultati anche numerosi pregiudizi di polizia e condanne per reati come furto, ricettazione, stupefacente ed altro. Dato che quest'ultimo non è né residente né domiciliato ad Avezzano e essendo considerato una persona pericolosa per la sicurezza e l'ordine pubblico è stato ordinato dal questore della provincia dell'Aquila all'immediato rimpatrio presso il luogo di residenza con diffida a non fare più rientro nel territorio di Avezzano. Il motivo perché due fossero nel centro marsicano è ancora in corso di accertamento. Ha fatto perdere le tracce dal suo paese dalle 21 di ieri sera e dalle ore immediatamente successive viene cercata da vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Si tratta di una ragazza di 22 anni, dicese di Preturo, provincia dell'Aquila. Le ricerche sono state condotte per tutta la notte e proseguono nonostante il maltempo che si sta abbattendo nella zona. I vigili del fuoco hanno battuto passo passo la collina ma la giovane sembra scomparsa nel nulla. A dare l'allarme ieri sera sono stati i familiari e il fidanzato molto preoccupati. Quest'ultimo avrebbe ricevuto un sms da parte della 22enne con l'invito non cercatemi. Secondo quanto sia preso la giovane che non soffre di forme depressive si sarebbe allontanata dopo un litigio con la famiglia. Per questo gli investigatori stanno seguendo altre piste anche quella dell'allontanamento verso posti diversi dalla collina intorno al paese è un'ipotesi ritenuta probabile visto che finora non è stata trovata traccia della giovane in uno spazio non troppo ampio. Il telefono sarebbe spento, al momento quindi inutile per localizzare la giovane. E all'Aquila sarà bloccato per un tempo indefinito il tratto di strada della trafficata via Aldomoro franato nei pressi di un cantiere. Sul fatto sta indagando la procura. Non si ha idea di quanto tempo sia destinato a stare sventrato il tratto di strada di via Aldomoro franato nei pressi di un cantiere della ricostruzione. La magistratura sta indagando sulla frana per individuare le responsabilità. Solo in seguito si potrà stabilire chi dovrà pagare il rifacimento di quel tratto di strada. Intanto la trafficata arteria dell'immediata periferia cittadina è bloccata da due settimane. Un tempo che sembra destinato a decuplicarsi per indagini e burocrazia. Non ne fa mistero neanche l'assessore alle opere pubbliche del comune dell'Aquila, Maurizio Capri. Lì la situazione è molto delicata, si sta lavorando molto fattivamente per cercare di risolvere i problemi tenendo conto che siamo in una fase dove c'è anche un interessamento della procura. Quindi proprio per il fatto che c'è un interessamento della procura non si possono fare interventi di altro tipo. Stiamo aspettando che cosa accadrà a livello di indagini e fermo restando che noi come comune, ma debbo riconoscere sinceramente anche la ditta che esecutisce dei lavori, insomma la proprietà, si stanno attivando proprio perché tutti vogliamo in tempi rapidi risolvere il problema. Però la cosa fondamentale, diciamo la notizia, è che purtroppo la questione, come è giusto che sia, è in mano alla magistratura. E tra gli appuntamenti sarà senza dubbio Francesco De Gregori, la stella più luminosa dell'edizione 2016 del Blue Bar di Francavilla al mare. Cinque serate di concerti tematici per ripercorrere la storia della musica italiana. New Trolls, Teresa De Sio, Enzo Gragnaniello, Eugenio Finardi, Drupi, Audio 2 e Francesco De Gregori sono i nomi dell'edizione numero 13 del Blue Bar di Francavilla al mare. Cinque serate per cinque temi differenti. Abbiamo deciso di dividere le cinque serate con cinque temi differenti. Una prima notte prog, una seconda notte dedicata alla musica che viene da Napoli, una terza a Italia Rock, una quarta al Pop con Drupi, Opera Seconda e Audio 2 e l'ultima notte è quella della canzone d'autore con Francesco De Gregori e il fratello Luigi. L'evento è inserito nel cartellone delle manifestazioni estive di Francavilla al mare che si prepara ad un nuovo pienone dopo il successo del concerto di Antonello Venditti il primo agosto quando in città sono arrivate 45.000 persone. L'investimento pubblico genera investimento privato e questo vale anche per le manifestazioni. Noi diamo un bel contributo all'associazione Blue Bar ma è anche vero che l'associazione Blue Bar quest'anno ci porta De Gregori, ci porta Teresa De Sio, ci porta Finardi, ci porta tanti nomi anche quello di Marino Bartoletti che verrà qui a presentare quindi diciamo una manifestazione che sta diventando di tutto rispetto anche se si considera a livello nazionale. E dal 13 al 15 agosto tre concerti per valorizzare l'entroterra montano-teramano concerti affidati all'ensemble di Fiati dell'Istituto Musicale Braga. Provincia di Teramo e Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga insieme per tre concerti al tramonto sulla montagna teramana e l'iniziativa Gran Sasso in Musica Spettacolo e Natura con l'ensemble di Fiati del Conservatorio Braga di Teramo. Si parte sabato 13 con lo spettacolo alla cona di San Sebastiano a Isola del Gran Sasso a cui seguiranno le performance al piazzale Amorocchia Prato di Tivo del 14 agosto e quella di Ferragosto alla Abbazia di Santa Maria di Ronzano di Castel Castagna. Tutti i concerti avranno inizio alle 18.30 e si protrarranno fino al tramonto. L'iniziativa alla prima edizione intende animare anche il territorio montano durante il periodo estivo con iniziative di pregio artistico e culturale che siano in grado di richiamare l'attenzione su luoghi di assoluto valore paesaggistico e storico. Il concerto dell'ensemble di Fiati del Conservatorio Braga diretto dal maestro Federico Paci eseguirà un repertorio che spazza dagli Abba Gold alle musiche composte dal premio Oscar Ennio Morricone fino alle colonne sonore di James Bond e dei Pirati dei Caraibi. Passiamo alla pagina sportiva. Dopo aver trovato l'accordo con l'ungherese, Guzmici il Pescara è a caccia di un altro difensore. Ghiomber della Roma e Gaston Silva del Torino sono tra gli obiettivi principali per l'attacco sia vicina a Trotta del Sassuolo. Andrea Costantini. Difesa e attacco restano i reparti che più urgono di completamento per il Pescara. Dopo essersi assicurato le prestazioni del difensore della nazionale ungherese Richard Guzmici del Visla Cracovia la dirigenza del Delfino non si ferma e mantiene caldi altri obiettivi. Le prossime ore saranno decisive per lo slovacco della Roma Norbert Ghiomber una sorta di piccola telenovela. Il difensore ha concluso la tournée negli States con la squadra di Spalletti e nelle prossime ore si tornerà a dialogare col Pescara. Il nodo resta in ingaggio. O il calciatore decide di diminuire le pretese o il Delfino chiederà alla Roma di partecipare al pagamento. Se non si troverà l'accordo il Pescara potrebbe abbandonare definitivamente la pista e virare o sul livoriano Eloge Yao dell'Inter che lo scorso anno ha fatto benissimo a Crotone o su un nome nuovo sul taccuino del DS Leone l'uruguayano del Torino Gaston Silva. Il primo potrebbe rientrare in una più ampia operazione con l'Inter che comprende il centrocampista Nucuri e il principale uomo mercato biancazzurro Valerio Verre. Gaston Silva è il nome dell'ultima ora accessibile quanto a ingaggio potrebbe trovare stimolante l'esperienza Pescara visto che a Torino è chiuso da giocatori più esperti. Difensore peraltro duttile, centrale che però nasce come terzino sinistro. Per l'attacco invece il nome ora più caldo è quello di Marcello Trotta del Sassuolo. Il tecnico Di Francesco lo ha spedito in tribuna nel retour match di Coppa con Lucerna e aspetta un rinforzo di spessore in avanti. Un arrivo che libererebbe l'ex Avellino che prenderebbe la direzione dell'Adriatico visto che l'accordo tra giocatore e Pescara già c'è. Oddo lo vorrebbe subito anche perché per la prima guerra ufficiale di sabato prossimo in Team Cup Manai è squalificato e al momento sarebbe sostituito dal solo Nicastro. Si allontana Gonzalo Bergessio l'argentino dell'Atlas Guadalajara guadagna troppo e non esistono dunque i presupposti per una chiusura positiva della trattativa. Sul fronte delle uscite è vicinissimo l'accordo tra Pescara e Frosinone per l'approdo in ciociaria del terzino Antonio Mazzotta. Il portiere Simone Aresti potrebbe finire in Lega Pro all'Olbia probabilmente dopo essere stato acquistato dal Cagliari che lo girerebbe in prestito alla compagine nordisolana. Andiamo in Lega Pro domani per il Teramo quinta uscita stagionale a Pineto intanto con il DS Fabio Lupo abbiamo fatto il punto sulla diramazione dei gironi e sulla trattativa per il prolungamento del contratto con il centrocampista Stefano Amadio. Il servizio. Direttore sono usciti i gironi tutto come nelle previsioni insomma che girone è ora che abbiamo anche l'ufficialità? Il girone che ci aspettavamo è un girone di grande qualità dove ci sono anche squadre di tradizione di blasone quindi sarà un girone molto molto interessante molto molto stimolante nel quale noi cercheremo di farci trovare pronti e nel quale noi cercheremo di essere protagonisti domenica per domenica. L'obiettivo sarà quello dei pre-off? L'obiettivo è quello che ho detto è quello di essere protagonisti domenica per domenica cercando di fare il meglio possibile come ho sempre detto fin dall'inizio cercando di uscire ogni giocatore con la maglia sudata dal campo questo è l'obiettivo principale quando ci sono questi presupposti poi possono arrivare anche dei risultati importanti. Parma e Venezia su tutte a livello di pole position? Sì è chiaro che come organici sono squadre che sembrano avere qualcosa in più però poi spesso i campionati regalano anche delle sorprese ci sono alle spalle anche società comunque importanti come Reggiana Padova, Bassano Pordenone che hanno fatto molto bene quindi è un girone di grande qualità ripeto come ho detto sarà un girone molto molto stimolante. Ecco la situazione a Madio parlando un attimo di mercato comunque di situazioni contrattuali a che punto siete circa il prolungamento? Ma non è che non c'è questa fretta così ci siamo incontrati perché c'è la volontà di andare avanti lo faremo nelle prossime settimane ma non c'è nessuna nessuna ansia quando c'è la volontà da parte di entrambi di fare qualcosa si trova sempre un equilibrio e lo troveremo con grande serenità. Ecco c'è ancora tempo per muoversi circa tre settimane Terramo è a posto così o state facendo ulteriori valutazioni magari per intervenire sul finire della finestra? Abbiamo ancora una decina di giorni almeno fino a ferragosto per cercare di capire se intervenire ma se ci saranno interventi saranno interventi tesi magari a colmare qualche lacuna in organico ma da un punto di vista numerico insomma non ci saranno stravolgimenti sostanziali. E Lanciano resterà senza calcio sono andati a vuoto tutti i tentativi di coinvolgere forze imprenditoriali per ripartire da serie di o eccellenza sarà dunque un anno sabbatico in attesa di allestire un progetto di rilancio magari tra 12 mesi. Il calcio a Lanciano chiude i battenti è l'epilogo di una settimana amara vissuta tra momenti di speranza e di sconforto ma alla fine gli sportivi frentani si sono dovuti arrendere all'idea che non è sbucato fuori quell'imprenditore o quel gruppo di imprenditori che desse forza economica alla Pro Lanciano la neonata società costituita e affiliata dall'avvocato Donato Di Campli non è bastata neanche la raccolta fondi promossa dai tifosi ma in fondo lo si sapeva era più un'azione tesa a stimolare la ricerca di una nuova proprietà cui dare un minimo di sostegno economico che è un'iniziativa che essa stessa potesse portare alla prosecuzione del calcio in frentania come riconosciuto dallo stesso sindaco Mario Pupillo ci sono state delle opportunità prima con l'imprenditore Gilberto Candeloro si era pensato di ripartire dalla Serie D col versamento subito di 150.000 euro poi era sbucata l'ipotesi Fabrizio Petronti imprenditore della Val di Sangro che con 50.000 euro subito sul piatto avrebbe permesso la ripartenza dall'eccellenza ma al dunque i due imprenditori non se la sono sentita di iniziare un nuovo progetto in fondo c'è da capirli troppo poco il tempo a disposizione per decidere e pianificare scendere in campo voleva dire avere un impatto finanziario subito forte per iscriversi ma poi si sarebbe dovuta costruire una struttura ex novo e quindi allestire una squadra competitiva quando molti calciatori quotati sono già sistemati in questi casi o il calcio ti scorre nelle vene e hai un po' di sana follia altrimenti difficile cimentarsi così per Lanciano sarà un anno sabbatico all'interno del quale poter pianificare il futuro coinvolgendo qualche imprenditore in un progetto di rilancio che abbia tutti i crismi la giusta tempistica e senza fare follie sfruttando magari il titolo di qualche squadra del comprensorio stesso per questo bisognerà sondare le volontà dei dirigenti di queste squadre per il momento la fiammella del calcio a Lanciano resta accesa con la Marcianese in prima categoria e la Spal in seconda ed è tutto per questa seconda edizione del TG6 l'appuntamento con l'informazione torna puntuale alle ore 23 grazie per l'attenzione e buon proseguimento grazie per la visione